Martedì 6 febbraio, buongiorno e ben ritrovati per la nostra consueta rassegna stampa del mattino. Siamo qui per vedere anche oggi cosa ci propongono i quotidiani, ne dico la stamane, lo faremo come sempre analizzando le prime pagine per capire attraverso i ditoli in primo piano quali sono gli argomenti principali, i temi caldi di oggi. Cominciamo subito il nostro giro, lo facciamo partendo dai quotidiani siciliani, nello specifico dalla giornale di Sicilia, tanti gli argomenti trattati e l'apertura dedicata alla cronaca, notizia da Palermo, vigili pestati alla vuciria, arrestato, figlio del boss, Salvatore Di Giovanni, erede del capo di Porta Nuova, ha colpito un agente con una bottiglia, misure cautelari per altri tre. E poi altre verifiche a tappeto in via Spinuzza, notizia dunque sempre da Palermo, multe a pub e automobilisti. L'assalto all'azienda Edile Di Bella, recuperata la refurtiva, indagini Lampo da parte della Polizia di Stato. Ancora cronaca con la violenza di gruppo avvenuta a Catania in carcere, i tre del branco, drammatici interrogatori, il GIP si riserva di decidere per gli altri quattro. Sono infatti sette gli indagati, tutti giovani egiziani. Al via stasera invece il Festival di Sanremo, li vedete in questa foto Amadeus e Fiorello. Amadeus, alla partenza il mio Festival Libero, ha dichiarato il conduttore. Stasera il via all'edizione numero 74. E poi l'arte di attirare il pubblico di tutte le età, chiaramente il riferimento è sempre al Festival di Sanremo, musica maestro, scrive il giornale di Sicilia. In taglio alto, province all'Ars la riforma, il voto un test politico, shock invece a Varese, a coltella alla prof, a scuola, a 17 anni, finisce in cella. Le soluzioni del piano Mattei per frenare l'afflusso dall'Africa in pieno boom demografico. Lasciamo il giornale di Sicilia, andiamo a vedere cosa ci propone stamattina in prima pagina l'edizione di Messina della Gazzetta del Sud. Non si può uccidere l'agricoltura, la lunga marcia dei trattori da giovedì a Roma, l'inizio della mobilitazione. In Sicilia la rivolta prosegue e oggi si protesta direttamente a Strasburgo. Lavori non coordinati in autostrada, Messina paralizzata, dunque incredibili, disagi, la zona centro-sud della città in tilt dopo la chiusura dello svincolo di tre mestieri. Fin dalla mattinata si è creato un maxingorgo che ha spezzato in due la città, sotto accusa il CAS, la prefetta di Stani, combo con vertice d'urgenza e solo in serata poi la riapertura parziale, ma comunque disagi che, vedete, sono proseguiti comunque anche in serata. 20 milioni di passeggeri transitati nel 2023, record per lo stretto di Messina, concorsi proprio a Messina, il comune pronto a completare l'iter si inizierà con 162 assunzioni. E poi Taormina a tutelare l'ospedale e la cardiochirurgia, l'aula vota compatta e infine Mazzara-Furnari, l'ex discarica, in sicurezza al più presto. Lasciamo anche la Gazzetta del Sud, proseguiamo la nostra rassegna con l'edizione palermitana della Quotidiano La Repubblica. In primo piano i manager della sanità, o meglio le nomine dei manager, la nostra salute in mano ai soliti noti della sanità, titola in modo piuttosto polemico Repubblica Palermo. Ecco chi ha vinto la partita nel centrodestra per la guida di ASP e ospedali. Quasi tutti sono, vedete, vecchi nomi, in qualche caso con una casacca politica cambiata, dunque diversa rispetto al passato. E a proposito di ospedali, il caso con mio figlio in corsia, un ragazzo con la tubercolosi. La cronaca, l'inchiesta sullo stupro del branco a Catania, tre minorenni in carcere, il racconto della brutalità. Il tutto è avvenuto all'interno della Villa Bellini di Catania, che dovrebbe essere un fiore all'occhiello della città, invece sta diventando una sorta di terra di nessuno. Perché, vedete, per quanto riguarda la questione sicurezza proprio alla Villa Bellini, al momento un solo vigile e soltanto cinque telecamere per una villa di grande estensione. Così di sera, appunto, scrive Repubblica, la Villa Bellini diventa terra di nessuno. E in questo caso, purtroppo, è stata teatro anche di una brutale violenza sessuale ai danni di una tredicenne. Il duello dei padroni di Ragusa, proda in Vaticano, questa la storia in taglio centrale su Repubblica Palermo. E poi l'Istituto Ernesto Ascione, stampanti 3D ed escursioni sub, la scuola che seduce gli studenti. Il calcio, nello specifico il Palermo, l'arma tra ore per vincere tre scontri diretti. Si tratta di un colpo di mercato messo a segno dal club rosa nero, ovvero il giovane Ciacatraore, arrivato dal Milan. Lasciamo Repubblica Palermo, restiamo però sul Quotidiano La Repubblica con la prima pagina dell'edizione nazionale. Divieto di parola questo il titolo. A San Vittore, il ministro della giustizia, blocca la presentazione del libro di Giuliano Amato nel penitenziario milanese. Flick, il messaggio è di Costituzione, meglio non parlare. Il garante delle carceri parla di una scelta sconcertante. Ilaria, la rabbia del padre, Ilaria Salis. Chiaramente lo Stato non fa nulla, resterà in cella. Queste le parole del padre di Ilaria. E poi il progetto Vesuvius Challenge. Così, tre giovani studiosi e l'intelligenza artificiale decifrano i papiri di Ercolano. Dunque, notizia certamente molto interessante all'interno dell'edizione odierna del Quotidiano La Repubblica. Ci spostiamo sul Corriere della Sera. La protesta degli agricoltori che prosegue, agricoltori verso Roma. Adesso dovete ascoltarci. Questo è il grido di chi sta giustamente protestando. Fiorello e Amadeus intanto li invitano al Festival di Sanremo. Vedremo se ci sarà poi in effetti questo intervento. Premier cambia la riforma intesa. Nella maggioranza sulla norma antiribaltone, pioggia di emendamenti dalle opposizioni. Giorgia Meloni accetta le dimissioni di Sgarbi. Lui però conferma il ricorso al Tarra. E poi, Re Carlo ha il cancro, shock in Gran Bretagna, Buckingham Palace, impegni rinviati per le terapie. Dunque, Re Carlo adesso ha bisogno di curarsi. Questa certamente notizia che ha sconvolto, Londra che ha sconvolto la Gran Bretagna. Andiamo avanti, lasciamo il Corriere della Sera. Questa è la prima pagina del quotidiano La Stampa. Il caso Salis. In primo piano, dal governo solo dei no, ma in cella Ilaria muore. A parlare è Roberto Salis, dopo l'incontro con Nordio e Tajani a Palazzo Chigi. Così salta il dialogo. Questa, dunque, la posizione proprio di Palazzo Chigi. Il DAP blocca, invece, per la seconda volta il libro di Amato in carcere e si parla di una decisione sorprendente. Altre notizie in taglio centrale sulla stampa. L'Italia di Sanremo, via il Festival, Amadeus e Fiorello. Nessuna pressione. Il testamento, invece, di Piero. Il libro postumo di Piero Angela. La scienza, meglio l'amore. E li vedete, in questa foto, i due. Piero Angela e Alberto Angela, padre e figlio. Proseguiamo con la rassegna. Questa è la prima pagina del messaggero. Agenti per le scuole a rischio. Parla il ministro all'istruzione Valditara. Troppe aggressioni. La presenza dello Stato può aiutare. Varese, studente, 17enne a coltella. Alle spalle la professoressa. Fortunata ad essere viva. Ha poi dichiarato la Prof. La minaccia a Uti. Possono tagliare i cavi sottomarini. Nel mirino ai tubi. In fibra ottica nel Mar Rosso. Nei quali passa il 17% del traffico web mondiale. Spazio anche al calcio. Sulla prima pagina del messaggero. Ieri la Roma ha chiuso questa giornata. Questo turno di campionato. Un Di Bala da Urlo e una Roma da Champions. Pellegrini gol. Poi Paolo Di Bala e Lumina. Con De Rossi si vola 4-0 al Cagliari. Dunque iniziata nel migliore dei modi. L'avventura di De Rossi sulla panchina della Roma. De Rossi che ha sostituito lo Special One. Lasciamo anche il messaggero. Questa che vi proponiamo è la prima pagina della Quotidiano Il Giornale. Tra le altre cose si parla anche della Fiat. Chiude Mirafiori. Fiat appunto chiude Mirafiori. Sfida al governo scrive il giornale. Cassa integrazione per gli operai. Mentre Sanremo sale sui trattori. Proteste show. Amadeus l'invita. La Rai però frena. Giovedì il presidio arriva a Roma. Re Carlo invece. Eccolo anche sulla prima pagina del giornale. Annuncio shock a Londra. Re Carlo ha un cancro. E dunque sono stati rinviati tutti i suoi appuntamenti. Tutti gli impegni che erano già in programma. Caccia all'evasione fiscale. Governo da record. Ma che complici dei furbetti. La riscossione sale a 31 miliardi. Ed è come una manovra. Giorgetti annuncia la riforma. Lasciamo anche il giornale. Proseguiamo la nostra rassegna. Lo facciamo con la prima pagina del Fatto Quotidiano. Il caso Sgarbi ancora in primissimo piano. Sgarbi si lega alla poltrona. Ma Giorgia Meloni adesso vuole cacciarlo. Comica finale. Scrivono i colleghi del Fatto. L'idea di revoca in Consiglio dei Ministri. Lui cerca buone uscite dai Berlusconi e dalla Lega. Insomma, vedete, Sgarbi tenta l'ultimo ricatto. Secondo il Fatto Quotidiano, il sottosegretario. Altri incompatibili al governo. Programma su Mediaset. Dunque, occhio a questa possibile opzione. Con Sgarbi in TV sui canali di Mediaset. Vedremo se in effetti sarà così. Ci spostiamo invece sulla prima pagina della Quotidiano Il Mattino. Anche qui in primo piano le parole del Ministro Valditara. agenti per le scuole a rischio. Questa è la posizione del Ministro dopo l'aggressione a una prof. Sostegno psicologico anche alle famiglie. Intanto la protesta dei trattori sbarcherà a Sanremo. Sconto dall'Europa sulle emissioni di gas serra. E a proposito di Sanremo, vedete Amadeus, ecco il mio festival, la mamma di Jojo sul palco. Stasera il via alla Kermes. Vedete, Amadeus sarà il conduttore del festival di Sanremo. Questo dovrebbe essere il suo ultimo anno alla guida della Kermes Canora. Pestum, resort sotto sequestro, tagliati mille pini, la struttura è abusiva. Dieci gli indagati, alberi abbattuti per realizzare il parcheggio. Lasciamo anche il mattino. Ci spostiamo sulla prima pagina di Libero che apre con il festival di Sanremo. ma, vedete, in questo caso l'argomento però non sono le canzoni in gara al festival ma la protesta degli agricoltori. Amadeus sul trattore, titola Libero, lasciatelo zappare. Inizia Sanremo e dopo aver detto basta politica, il conduttore invita sul palco gli agricoltori in rivolta. Cominciamo bene, scrive Libero che dunque non apprezza questa decisione. Il festival parte, senza monologhi per fortuna, le novità del festival, Fiorello, pensaci tu. Insomma, quasi un appello, vedete, quello di Libero. E poi, nuova sfida di Stellantis, lavoratori lasciati a casa, Giorgia Meloni, da Tavares, parole bizzarre. Dalla lotta all'evasione, invece, arrivati 4 miliardi e mezzo in più, altro che governo amico dei furbi. Parliamo di sport, come ogni mattina andiamo a vedere le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, una gazzetta che celebra l'Inter e uno dei suoi grandi protagonisti, ovvero la centrocampista Can Cialanoglu, che illumina l'Inter e allora il giocatore turco diventa l'uomo dal lancio d'oro. Il turco, nel suo ruolo, è al top in Europa. I suoi colpi li studia al video e vale 60 milioni, mentre Zhang scrive dalla Cina Amala. Dunque, Zhang dedica questo pensiero ai nerazzurri. La Juve sconfitta nel big match, però ci crede ancora. I bianconeri, dunque, non mollano. Allegri punta sul calendario e sui giovani. L'Inter adesso ha un bel vantaggio, ma in un campionato come quello italiano può succedere davvero di tutto. Il Corriere dello Sport torna proprio sulla sfida di San Siro, top e flop. Gli opposti di Juve e Inter. Il turco, ovvero Cialanoglu, domina. Il serbo, ovvero Vlaovic, non incide. Cialanoglu cambia la corsa a scudetto. Vlaovic, invece, stecca l'esame da leader. E chiudiamo con tutto sport. Si parla di Juve, del futuro della panchina bianconera. Il futuro di Max Allegri decide proprio lo stesso allenatore. Allegri non molla il sogno scudetto e ha la Juve in mano. Dunque, a fine stagione, insomma, poi deciderà cosa fare. Il tecnico è ancora l'uomo forte in società, non solo per il rapporto con Elkan. Il peso del suo contratto condizionerà le scelte, così come i risultati. Vedremo, insomma, se sarà ancora Allegri l'allenatore della Juventus anche nella prossima stagione. Ci fermiamo qui. Chiudiamo questa rassegna stampa odierna dopo aver fatto e concluso il giro delle prime pagine. Partiamo però a breve. Tutte le nostre edizioni di Spazio Notizia per aggiornarvi lungo questo martedì. E allora, anche oggi, come sempre, vi invitiamo a rimanere con noi. A più tardi. A più tardi. Grazie a tutti.